Si mantiene la musica fino alle 3 di notte, ma si abbassano i volumi. E' stata firmata l'ordinanza comunale che correggia il tiro sul precedente regolamento relativo all'ascolto di musica nei locali della Movida del lungomare pesarese. Un ritocco che cerca di andare incontro ad una complessa mediazione fra gestori dei locali, alberghi e residenti dopo le rimostranze per rumori molesti che hanno già accompagnato il primo scorcio d'estate. Da Via Le Tresti al Porto e Baia Flaminia, da Sottomonte a Fosso Seore fino ai locali sul San Bartolo, l'ordinanza consentirà l'ascolto di musica dal vivo e non fino alle 3 di notte anche nei giorni feriali. Andando nello specifico, da domenica a giovedì sarà consentita la musica a 65 decibel fino a mezzanotte, una cifra che si abbasserà a 55 decibel nelle 3 ore comprese fra mezzanotte e le 3. Il venerdì e il sabato musica più alta, 70 decibel fino a mezzanotte, per una cifra che decrescerà di ora in ora fino ai 55 decibel nella fascia compresa fra le 2 e le 3 di notte. Un'ordinanza reputata e equilibrata su più fronti che ora sarà chiamata alla prova concreta dei fatti, sull'effettivo rispetto o sforamento dei decibel e sui controlli deputati al rispetto dell'ordinanza.